L'Aquila! 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 Non chiediamo favori, non vogliamo nemosine, reclamiamo giusti diritti per la nostra città, per l'Aquila, su cui è calato un velo di silenzio dopo tanta propaganda del governo. Chiediamo finanziamenti certi, una legge chiara e... ...sezionate e questo fu il primo segnale. Poi c'è stato il passaggio delle consenze. L'Aquila! 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 L'Aquila!